Questa installazione si intitola I duellanti ed è stata collocata in Piazza Repubblica a Firenze nell'ambito della campagna di sensibilizzazione Mieloma ti sfido, promossa dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, insieme all'Associazione Lampada di Aladino con il contributo di Celgene, testimonia della campagna a Domontano ed Elisa di Francisca, campioni olimpici di Sciabolo e Fioretto. La campagna è importante per due motivi. Perché consente di arrivare alla capillarità più diffusa, alla popolazione, ai media, a tutta la cittadinanza, ma anche e soprattutto ai pazienti. Ogni anno in Toscana vengono diagnosticati 250 nuovi casi di Mieloma multiplo, una forma aggressiva di tumore del sangue. La sezione provinciale dell'AIL Firenze è molto attiva e conta quasi 500 volontari che danno assistenza ai malati e anche accoglienza. Significa mettere a disposizione di queste persone, di questi pazienti con i loro familiari, due case di accoglienza. Noi di Toscana Firenze abbiamo 22 alloggi, naturalmente che mettiamo a disposizione a titolo completamente gratuito. Grazie alla ricerca scientifica i pazienti vivono più a lungo e la loro qualità di vita è migliorata, ma è fondamentale non abbassare la guardia. È essenziale sensibilizzare le persone per anche promuovere la diagnosi precoce, perché prima si intercettano un po' tutte le malattie, ma questa anche in modo particolare è meglio, è migliore, è la prognosi e la prospettiva successiva di vita delle persone e anche la loro qualità di vita. Grazie. Grazie.